ehi ehi se pensi di non essere di non esistere cosa ci fai ancora alzato a quest'ora se sei invece un maschio un maschio un maschio di quelli sempre infoiati questo film fa per te e non devi perderlo per nessun motivo la pelagic production presenta video amatore il corto dei corti pino è un uomo come tutti gli altri pino ha una moglie dispotica pino ha una vita piatta pino ha poche occasioni di fuga ma un giorno quella che in apparenza doveva essere una tranquilla gita in montagna diventa qualcosa di molto molto speciale video amatore l'apologia dell'uomo moderno con un'ammirabile interpretazione di giuseppe d'emilio nel ruolo della sua vita grazie